Dux Dux, una scritta inneggiante a Benito Mussolini sul volto dei due eroi della chiassa, Giovanni Battista Mineo e Giuseppe Rosadi, che durante la resistenza misero a repentaglio la loro vita 77 anni fa per salvare quella di tanti innocenti durante le stragi nazifasciste. È successo nella notte alla chiassa superiore alle porte di Arezzo, qui dal 2019 si trova una pittura murale che ricorda i due abitanti della chiassa superiore. Era il 29 giugno del 44 quando la pieve del paese rischiò di diventare il teatro di un'efferata strage. I tedeschi avevano chiuso nella chiesa più di 200 ostaggi con l'idea di fucilarli se il loro colonnello, catturato da una banda di ex detenuti slavi evasi dal campo di concentramento di Anghiari, non fosse stato liberato. Fu proprio Giovanni Battista Mineo a convincere i tedeschi a concedere una proroga di 24 ore, accompagnato dal giovane partigiano aretino Giuseppe Rosadi, riuscì a farsi consegnare il colonnello per tornare poi nella frazione quando i primi prigionieri erano ormai schierati di fronte al plotone di esecuzione, evitando così la strage. Oggi la mara sorpresa, alcuni abitanti della chiassa superiore si stanno già organizzando per ripulire le scritte sull'opera realizzata nei pressi del parchetto intitolato ai due eroi.